Nel marzo scorso, quando esplose lo scandalo, i loro nomi comparivano tra gli scritti nel registro degli indagati. Adesso, sul loro arresto e scontro tra Procura e GIP. E su due nomi eccellenti che si abbatte la bufera al Palazzo di Giustizia di Agrigento. Ignazio Valenza, 50 anni, ex segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e sino a qualche settimana fa assessore al Comune di Agrigento, e Antonio Arnese, 44 anni, Marasciallo dei Carabinieri, comandante del NIL, il nucleo e spettorato lavoro dell'arma. Per Valenza la Procura, attraverso il Procuratore Capo, Renato Di Natale, l'Aggiunta Ignazio Fonzo e il PM Andrea Maggioni, ha chiesto gli arresti domiciliari, per il secondo il divieto di dimora in Sicilia. Ma su entrambi i provvedimenti è arrivato lo stop e le GIP Ottavio Mosti. Per entrambi il giudice ha sollecitato un interrogatorio a propria discolpa, in attesa di adottare i provvedimenti del caso. Gli Avvocati Difensore dei Due, Nino Gazziano per Valenza e Andrea Arrabbito per Arnese, hanno chiesto tempo per visionare le carte delle accuse. Negativo il parere della Procura, ma il giudice, andando ancora contro la volontà dell'accusa, ha disposto la visione delle carte accusatorie, rimandando al 7 gennaio prossimo la testimonianza. Il particolare più interessante della vicenda è che il segretario del Consiglio dell'Ordine e degli Avvocati si è presentato davanti al GIP dimissionario di ogni carico. Valenza si è dimesso da segretario dell'Ordine, da presidente dell'Ecap e da presidente di Casamica, ente Ollus di Agrigento, che si occupa del recupero dei giovani detenuti. Ed è proprio Casamica il fulcro dell'indagine che ha portato a questi clamorosi sviluppi e ruota attraverso l'assunzione della moglie di Arnese all'opera di Casamica, di cui Valenza era presidente. Il sospetto è che Arnese, chiamato in ragione del suo ufficio ad effettuare una verifica fiscale all'ente, abbia usato la mano morbida in cambio dell'assunzione della moglie, circostanza verificatasi contestualmente all'archiviazione della verifica fiscale. Al centro delle indagini della Guardia di Finanza, anche l'assunzione di altre quattro persone effettuate in assenza dell'autorizzazione della Regione e la richiesta di applicazione anche all'ora del Cigi e il deroga dell'inchiesta. Risultano indagate altre tre persone.